Ciao ragazzi dal vostro Cataldo Pugliese, oggi voglio provare un esperimento, il gioco è sempre lo stesso, Minecraft, con me però ho due piccoli amici Io sono Mauro E io sono Melania E mi aiuteranno a creare un bel mondo di Minecraft, in questo video, azione! Ciao ragazzi, allora Abbiamo finito di costruire le case Finalmente Ci abbiamo messo tre ore Dove ci troviamo? Ci abbiamo messo un pochettino Dove ci troviamo? Adesso dobbiamo andare a trovare le case Dai ragazzi, andiamo alle case Un secondo Non si metti la sfada, l'ho presa apposta Speriamo che stiamo andando nella direzione No, sono svegliate Mi sa proprio di sì Proviamo di qua Spero di mai di trovarle io Ci abbiamo messo sei anni No, poi c'è un'altra cosa, vogliamo più altri No, forse so Un secondo Aspetta Esca Opzioni Vopla Eccola là Vai Vediamo se lo troviamo Oddio Cosa hai fatto? No, così No, così Ma però sbrigati dai Che mica un po' se non senti un orso Siamo nel video Siamo nel video con Mauro e Melania ragazzi Video Minecraft Oggi mi sono fatto aiutare da loro Eccola qui Melania Dopo io mi racconto la storia delle case Ok, ripetiamo, ripetiamo, ripetiamo Andiamo a trovare le case Andiamo a trovare le case che abbiamo costruito Eccole È un villaggio E il villaggio della visione delle case E le case saranno così Da questa parte Ma ora si è Se hai il senso dell'orientamento non mi inganno Andiamo, andiamo, andiamo Quello troveremo però poi Per un po' ci dovrebbe essere una musichetta tipo paparà paparabà quella della questo è un altro villaggio questo è un testello avevo una casetta piccolina in canada e sono sperato la musica la musichina di minecraft un secondo un secondo si ah questa idea per allungare le vite è stata pessima come? questa idea per allungare le vite è stata pessima e lo dobbiamo fare da capo dici tu e no perchè se non troviamo le case allora le troviamo come non le troviamo le troviamo vediamo che c'è qua intanto ecco le case che abbiamo costruite si 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 il villaggio che abbiamo costruito noi si 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 ci abbiamo messo un bel po' a farlo si si tanto 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 tempo e me vi racconta la storia di ciascuno di casa guarda che guarda che i villaggi sono tutti gli stessi la musica si sente bella alzare il gioco ragazzi entriamo in qualcuna delle nostre casette che abbiamo costruito mauro non l'abbiamo costruita dai dai mauro sai perché non vuoi fare scherzi quanto li fai tu però forse ci siamo forse ci siamo ok questa qua è la vecchia cosa che avevo costruito quindi da qui siamo vicini alle altre eccola no 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 quindi vediamo giusto per fare io sento la musica si anche io la sento anche voi si e la sentiranno anche nel video quelli che guarderanno quelli che seguono il nostro canale 300 e 300 eccole eccole non farle bene non farle bene va bene scendiamo scendiamo e camminiamo ok scendiamo e camminiamo allora adesso lascio le cuffie a Melania che vi fa vedere la casa sua e poi io allora tieni più vicino allora un secondo che sono troppo grandi vai rimpicciolissimi rimpicciolissimi ok vai ok ma allora dai qua no tu non ci sai giocare ecco dai illustraci nella nostra casa dai allora nella casa ci sono molte finestre perché si deve entrare il sole cioè in ogni parte della casa ci sono due retti rosa e magenta ci sono le torce e poi ci sono gira di là le fornaci le fornace le due fornaci due custom table e quattro ceste ah le torce le torce le torce le torce e dall'altro lato lo stesso una cosa piccola ma con tutto il necessario esci da questa e che racconta la storia dell'altra casa con quello che è successo nella nostra popola baita ecco a questa baita che stavano costruendo Mauro e Cataldo è successo una cosa Mauro aveva lasciato il fuoco del camionetto acceso come uno stupidino allora all'improvviso Cataldo ha visto la casa prendere tutto a fuoco si sono presi una paura Mauro esce a far vedere cosa è rimasto nella casa poi subito hanno preso l'acqua e hanno quasi allagato la casa e l'abbiamo salvata per un pochino un pelino diciamo ed è rimasto solo questo sì però non è che tanto della povera casa ci manca fare un po' di pezzo qui è una costruzione a strada è una costruzione a strada è una costruzione a strada ora degli occhi e la bocca cosa qui è la lingua cosa qui è la lingua c'è anche lo scudo io non l'avevo mai giocato ma vi basto le cuffie Cataldo ciao allora ragazzi in questo momento mi sono molto divertito perché mi sono molto divertito perché con Mauro e Mela è stato veramente divertente giocare a Minecraft io non avevo mai giocato su PC ora non sono abituato hai visto? ma anche io hai visto? e devo dire che il video è stato veramente molto divertente ho voluto fare una sorta di esperimento sociale ho preso Mauro che posso dirlo veramente è uno dei miei più accaniti iscritti che segue tutti i video e tutto e ho detto Mauro facciamo un bel video insieme e sono venuti e sono venuti anche in Melania e abbiamo fatto questo bel video perché Minecraft è un gioco che piace a tutti ricordatelo ragazzi ormai chi non gioca a Minecraft vero? lo so io la maestra Lucrezia ah è la maestra magari non ci giocherà magari non ci giocherà magari non ci giocherà la maestra però tutti i ragazzi mi posso scoprire? mi posso scoprire? con la dnt si vai dnt 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 distruggi dnt distruggi dnt distruggi qui salutiamo mi piace la musica mettiamo in pausa il video e facciamo vedere che bel botto facciamo hoo guardate che botto c'era allora come si mette in post il video t Steam e per chi ciuồng tanto la mia no allora ci fatti un po' va 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 poi scontri anche la mia ci divertiamo allora facciamo così ragazzi arrivederci con l'esplosione ciao ciao enga tiboso Adesso le facciamo esplodere. Uno, due, tre. Ho la lagga, la lagga. E' esploso tutto, non c'è rimasta solo pietra. Che bozzo. Sembra un coniglio. Ma in qualche modo si, più una gallina. O un maiale, un maiale. Un maiale con la coda pure, si. No, però c'è anche una gallina. Diciamo che abbiamo sbancato e abbiamo fatto una piscina alla fine. Mauro però ha fatto esplodere la mia casa prima. Tutta volta sua. Va bene, abbiamo fatto una piscina. Va bene ragazzi, allora per questo video è tutto. Arrivederci ai prossimi video di Minecraft. Ciao!